E' una cosa che dovevamo aspettarci, perché hanno detto che facevamo al tempo, però le scuole, i bambini, non sono stati avvisati. E' la voce dei residenti di Via 20 Settembre, dopo i forti temporali che si sono abbattuti sulla città, lo scorso venerdì, creando non pochi disagi alla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza di pedoni ed automobilisti. Non c'è regola di niente, molto disordine, molto spazzatura, magari se pensassero prima del tempo di quello che può succedere, non succederebbe quello che è successo. Autofinite sugli scogli, strade dissestate, a distanza di tre giorni le immagini documentano ancora i danni del maltempo. Da 60 anni sembra la stessa storia, quando viene a piovere, qua viene la luvia 1. E già sappiamo tutti quanti che qua è una zona pericolosa, è una zona pericolosa, è una morte anche da gente in mare. E quindi il comune deve prendere provvedimento per questa cosa. Vedete, strade rotte, macchina a mare, non si capisce niente. Non prende provvedimento, non fa strade nuove e compagnie cantanti, quindi perciò ci trovano sempre la stessa situazione da 65 anni fino a questa giornata. Anche a telecamere spente, dalle numerose denunce e commenti sulla pagina Facebook di TV City, la maggior parte delle persone evidenzia la necessità di fare prevenzione. Finché qui non aggiustano tutte le fognature, mettono a posto un po' la strada, comunque è una cosa che succederà sempre. Ho 24 anni e da quello che ricordo, da quando sono piccolo questo problema c'è sempre stato e c'è stato anche all'epoca perché me l'hanno raccontato i miei nonni, la mia famiglia e tutti. È un problema che c'è sempre stato. Finché qui non aggiustano tutti i miei nonni, la mia famiglia e tutti i miei nonni, la mia famiglia e tutti i miei nonni, la mia famiglia e tutti i miei nonni. Finché qui non aggiustano tutti i miei nonni, la mia famiglia e tutti i miei nonni. Finché qui nonni, la mia famiglia e tutti i miei nonni.